Nonostante le difficoltà in sorte per lo stallo dovuto alle determinazioni della Corte dei Conti, non per responsabilità dell'attuale amministrazione, la Giunta Pugliese non ha inteso far mancare in questo periodo estivo servizi importanti destinati alle fasce più deboli della popolazione. È il caso specifico del progetto Nessuno si sente escluso, che partirà il prossimo 16 agosto e che ha visto la sua definizione nella riunione tecnica che si è tenuta nella Sala Giunta coordinata dall'assessore alle politiche sociali Alessia Romano. Presenti la dirigente del settore Maria Teresa Timpano, i funzionari dell'ufficio politiche sociali ed i rappresentanti dell'Unitalsi e della cooperativa Intensificare che gestiranno per conto del Comune il progetto. Progetto destinato a 20 persone con disabilità che potranno usufruire fino al 19 settembre di un servizio innovativo per la città di Crotone. Abbiamo previsto l'allestimento di un lido completamente attrezzato per ospitare le persone diversamente abili che potranno andare in spiaggia e al mare come loro diritto senza restare confinati, specialmente in questo periodo particolare nelle loro abitazioni, ha detto l'assessore Alessia Romano. Il mare è di tutti ed è giusto che queste persone lo possano frequentare e vivere momenti di socializzazione. Il servizio è anche un modo per sostenere le famiglie che possono affidare i loro cari in mani sicure, ha concluso l'assessore Alessia Romano.